Pallone nelle mani per il primo punto del match. Pulizio per Club Bike a segno. Minagra, la coppia di Nuno. L'annunzio, l'annunzio, l'annunzio. Ottima, l'alzata di Piennacchi, la Pulavenna. Pallone nelle mani per il primo final. Mabbe ancora molto, molto bene. Servizio imprendibile. Mace in top. Van by Piennacchi riesce a incidere. La linea trento. Mabbe bene, però non mi dico il match bene. L'attacco di Giulio Pinali che non ha problemi a passare con questa diagonale. Finisce venticino. Burri c'è dai nove metri per Ravenna. Diceva bene Piennacchi. Bertoli seconda linea per Pinali. Non ce la fa. Tuttavia, con la difficoltà. Burri c'è dalla overflow tenerla. Il paleno di Pinali. Il paleno Perali grazie. determination si fa. a servizio per Ravenna ma se bene il posto 4 il gol del muro di Contoroncia successo palla spinta di Pinali ma Ravenna pallonetto vincente di Pinali Comparoni riceve Clubbike a segno alla parallela di Clubbike tra le erati e Mattei Kaczynski per l'intassa dai 9 metri poi sui 3 metri per Ravenna, Vienna per Clubbike che scarica il suo attacco mancino parallelo l'intensore è un po' in quadratto anche per il bravo l'intensore l'intensore Clubbike molto bene l'intensore 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 di bellissima l'intensore da dietro il campo l'intensore di metrata l'intensore poi per Clubbike ancora una volta a segno il martello olandese ormai 36enne finali a segno l'intensore le il clubbike a segno per Ravenna Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.